Ciao, sono Priscila Pigozzi Garofalo. Vi aspetto sabato 8 e domenica 9 ottobre dalle 10 alle 18 al Foro Italico di Roma torna Tennis & Friends, salute e sport con tennis celebrità. Un appuntamento importante per la prevenzione. Sarà possibile fare check-up gratuiti in tante aree, per adulti e per bambini, dalla tiroide alle patologie del fegato alla salute della donna. 20 postazioni di ecografie, controlli al cuore per le donne, mammografie con gli specialisti del Policlinico Gemelli. Una giornata all'insegna e al divertimento, con aree a giochi per bambini e tante novità, con ingresso gratuito. Aiuta anche tu a sostenere la prevenzione. Vieni a trovarci!